che praticamente sono linguine o tagliatelle con pane fritto e uva passa e il ciuffo della cipolla tipo il porro ma è più forte e quelli sono degli uccelletti che non si mangiano ma sono benedetti sono proprio gli uccelletti di San Gisela con quel ferro si fa il buco nel costo dell'arco con quel ferro si fa il buco nel costo dell'arco con il finocchio e si usa come l'arco e si regalano se devono proteggerlo dal fuoco alle macchine sono uccelletti di pane fanno cadere tutti i denti si pone in casa noi è una tradizione che si fa quando si viene alle macchine si mangia però si porta anche la nonna, la mamma quando non c'è più il dente si capisce allora queste che sono? tutte sono i lampagioni fritti poi abbiamo i ceci ma avete un'attività? in casa sono le cipolline? le cipolline giusto no ma non aprate no non l'aprire no no così si apre un po' l'importante è non mangiarle è un po' è un po' nada è un po' Questo è il vostro, è il fular della santa, vero? Ma dov'è la santa? Dietro? Sì. No, dietro dico sul fular. Sì, sì. Oh, ecco. Perfetto. Grazie. Allora, ci vengono praticamente fatte delle balle e poi ce l'abbiamo. Ognuno è altra? Questi quattro mesi stanno volendo a nozze. Quattro mesi. Ogni anno cresce sempre. E quest'anno di quanto la farete? Non so, la crisi quest'anno ci porta a diminuire sicuramente. Ma siete solamente giovani che costruiscono il farò? Dovre, è bello. Adesso stanno nero, stanno volendo. Una volta c'è un bambino. Non è tanto un bambino. Beh. no ma non lo metti adesso distagliamo tutto il nostro viaggio no, faceva l'uccellino adesso lo faccio in diretta? arrivo arrivo, aspetta arrivo clientela generale ce n'è clientela buono deve essere è tornato lo Carmelo della Valorana non lo metti ciao Grazie a tutti. Come ti chiami signora? Giuseppina. Brava Giuseppina, bravissima. E questi quando si induriscono poi? Questi poi si mettono al forno. Si induriscono? Si, ma bene, si. Un forno dentro. Ogni anno li rinnoviamo. Si mettono al forno dentro, non si mettono al forno troppo tanto, se no poi si bruciano. E poi guarda, ora c'è tutto l'alberia. Brava, e chi te l'ha insegnato di famiglia questa cosa? È in famiglia, queste sono tradizioni che si diventano antiche, della nonna. Si, si, le nostre nonna. Che sono questi, vediamo? Questo è pesce. Poi? Tutto pesce? No, pane e cavole e fiori fritti. Impanato. Ma le avete fatti a casa, questi? Eh beh, penso che sia. Eh, spaghetti con, eh, la mollica di pane è tritta. Pesce con, sempre con spaghetti. E' un po' di pane. Ehi, lui, sta lì, muore, muore, muore.